Un buongiorno, benvenuti a tutti a questo intervento, per chi non mi conosce sono Marco Buglielmin e rappresento la Cadline Software, tenda che si occupa della distribuzione e del supporto cliente in Italia di Arcline XP. Oggi siamo in compagnia dei nostri colleghi di Namirial, un'importante società con la quale abbiamo stretto una partnership strategica. Namirial è un leader a livello mondiale nelle tecnologie emergenti e produce software per l'edilizia a 360 gradi. Da ormai tre anni è in corso una collaborazione finalizzata all'integrazione dei prodotti su piattaforma di disegno Arcline. Nell'intervento di oggi cercheremo di presentare seppur molto sommariamente i principi della progettazione integrata, utilizzando alcuni dei software principali. Simuleremo quindi una partenza da un file dvg, quindi una successiva restituzione di un modello BIM di fabbricato, per poi procedere con diverse analisi centralizzate tutte appunto sullo stesso modello. Vi anticipo sin da ora che per approfondimenti più di dettaglio saremo a disposizione nella chat room successiva a questo intervento dove poter incontrarci e approfondire le tematiche più di interesse sull'intervento stesso o più in generale sui prodotti. vi avrà spedito un link per accedere a questa chat room, la chat di questo webinar, durante l'intervento. E quindi occhio alla chat. Inizio senza perdere altro tempo, il mio intervento che occuperà circa una decina di minuti e poi passerò la parola ai colleghi. Siamo di fronte all'interfaccia di Arcline. Arcline è il software appunto per la modellazione, quindi è uno strumento BIM degli effetti, contiene tutti gli strumenti di lavoro per realizzare il nostro modello digitale e come accennato prima ora simuleremo la restituzione di un edificio partendo da un possibile serie di documenti che ci trasmette un collaboratore in modo tradizionale, quindi in formato di bugie. Il nostro obiettivo sarà digitalizzarli per poter avere poi una base di dati comune per tutte le nostre analisi. In Arcline possiamo innanzitutto caricare i diversi dvg disponendoli in quella che è un'effettiva struttura edificio. Quindi in questo caso abbiamo diversi piani architettonici, sarà nostra cura andare a far corrispondere i diversi dvg con i piani del nostro fabbricato. Caricare un dvg è molto semplice, basta trascinarlo all'interno della pista di lavoro, il programma fa partire l'import e mi mostra questa dialog, questa interfaccia mi aiuta a capire la scala del disegno, infatti vedete per esempio zoomando, non so qui, possiamo capire con questo righello che siamo completamente fuori scala, probabilmente si tratta solo di interpretare le unità di misura in modo differente e quindi adesso vediamo che il disegno molto probabilmente è scalato correttamente. Dobbiamo confermare l'operazione, il programma ci chiede anche se vogliamo definire una nuova origine per il nostro disegno, in caso contrario dando ok lui lo posiziona con le stesse coordinate x e y che ci sono all'interno del disegno stesso. qui il nostro disegno è stato correttamente caricato, si trova all'interno del piano terra, tutti gli elementi 2D vengono riconosciuti, ne vengono riconosciuti i layer, in particolare il programma crea anche un gruppo con lo stesso nome del file all'interno del quale mi posiziona tutti i layer del disegno stesso. Qui poi si aprirebbe tutto un mondo legato alla possibilità di filtrare questo lavoro in funzione delle esigenze, per notare che Arcline carica anche le tabelle colori del CAD con gli stessi indici ma da poter veramente poi garantire una compatibilità in e out attraverso questo formato che ahimè è uno standard. Possiamo caricare un altro piano spostandoci e fascinando quindi quello che per esempio è il piano primo, vale la stessa regola di prima, l'unità, facciamo uno zoom per controllare, si ok siamo in scala, stiamo ok e il programma carica anche il secondo documento. Ecco qui è importante, noi stiamo adesso ragionando con una struttura a piani quindi dobbiamo controllare che i piani siano correttamente allineati, questo dipende dalle coordinate con cui arrivano i file, molto probabilmente sono già corretti però per scrupolo li controlliamo, quello che andiamo a fare è attraverso questa tendina a visualizzare i più piani visualizzati contemporaneamente. Andiamo quindi a vedere sormontati, vedete sia il piano sottostante sia il piano soprastante e andiamo a controllare che effettivamente con bacino gli edifici hanno una forma diversa comunque ecco vedete qui troviamo un errore cioè sicuramente il vano scale, il vano dell'ascensore deve essere unico fra i due piani. Quindi usiamo proprio questo per allinearci, selezioniamo l'intero documento dvg, facciamo uno sposta da e andiamo a cercare un punto che verosimilmente è in comune, scegliamo il locale dell'ascensore quindi sposta da qui a qui. Ora che i locali sono corrispondenti, diamo una rapida occhiata ai punti principali dell'edificio, insomma dobbiamo trovare quelli che sono dei punti comuni chiaramente tra i disegni. Abbiamo diciamo preparato la giusta base per la rimodellazione e via dicendo si procede in questo modo, chiaramente il nostro edificio avrà una struttura, adesso per default il programma vi ha proposto questi piani, tuttavia è possibile chiaramente andare ad aggiungerne, basta premere aggiungi piano sopra, il programma mi aggiunge un altro piano posso rinominarli come avete visto e potete cambiare le quote, le altezze interpiano in funzione poi di altri documenti che generalmente sono da accompagnare quando trasmettiamo i dvg che sono le sezioni o i prospetti. Quindi l'insieme di sezioni, prospetti e planimetrie ci aiuta ad avere tutte le informazioni necessarie alla restituzione in 3D del nostro fabbricato. Adesso andiamo a bypassare un po' tutti questi aspetti e partiamo raccontandovi un po' come funziona la lucidatura, quindi che tecniche mette a disposizione Arcline per andare a restituire un modello digitale. Allora, innanzitutto il filtro di questa vista, lavorare su una vista molto piena di informazioni, molto ricca, può aiutare ma allo stesso tempo può fare un po' di confusione, quindi ciò che generalmente io faccio è quella di sfruttare se il dvg è fatto a layer, i layer in esso presenti. Infatti questa ad esempio è una serie di quote, avranno sicuramente un loro layer, vediamo seleziono, vedete, layer ARQ100, quindi o vado a spegnere il layer direttamente da qui e lo spengo, oppure c'è uno scorciatoio a tasto destro, layer disattiva, e quindi vado a spegnere tutti gli elementi di quel layer. Ecco, quindi comincio a fare un po' di pulizia per non avere cose che mi tunano nelle operazioni di disegno, e alla fine vado anche a bloccare, perché queste poligline sono tutte selezionabili, quindi potrei far confusione nelle operazioni di disegno, quindi vado a bloccare i layer agendo direttamente sugli interi gruppi che il programma mi carica, quindi semplicemente con un blocca il programma mi mette tutti i lucchetti su tutti i layer facendo parte del dvg importato. In questo modo non rischio di selezionare il dvg successo. Qui adesso le tecniche sono svariate, non spenderò tanto tempo oggi per illustrarle. Ad ogni modo due concetti principali voglio darvi. Il primo è che per una corretta posizione è importante lavorare con delle tipologie comuni. Un modello BIM per essere opportunamente usato in successive analisi necessita di essere codificato. Se non lo facciamo sarà molto complesso in una fase successiva che possano essere il calcolo delle prestazioni termiche piuttosto che l'estrazione delle quantità, delle misure per fare un computo metrico, faremo molta fatica perché dovremo lavorare elemento per elemento nell'andarli a identificare. Se invece io ragiono per tipologie di elemento, in Arcline ci ben incontro l'uso del set, sarà molto più semplice questo concetto poiché il set è quello che mi definisce una tipologia comune alla quale applicare le stesse proprietà. Tutti i muri con quel set avranno la stessa trasmittanza. Tutti i muri con quel set avranno lo stesso costo. Quindi diciamo che bisogna un po' combinare l'uso dei set e le tecniche che Air Climate ha a disposizione per restituire il modello stesso. Quindi normalmente potrei creare un muro con la tecnica muro da linea dvg e rapidamente andare a, questa tecnica l'abbiamo già ampliamente vista in diversi video, quindi andare avanti con una procedura come questa e andare a lucidare tutti gli elementi del nostro fabbricato. Tuttavia devo stare attento anche a usare delle codifiche. Quindi magari prima di fare questa operazione, cosa facciamo? Andiamo a crearci una tipologia. Quindi daremo un'altezza, lo spessore in realtà lo ricaviamo nel lucidare gli elementi e andremo a crearci una serie di tipologie. Adesso non mi addentro ora su tutti questi dettagli, passo a una fase più avanzata del nostro modello. chiaramente siamo andati abbastanza avanti, però vi volevo far notare come ogni elemento, vedete è in realtà proprio questo, comunque abbiamo cercato di dare una codifica, in particolare mi sono andato su questa planimetria, quindi ogni elemento ha un codice, ha un nome. Questo significa poi, lo vedremo negli interventi successivi dei colleghi, come questa cosa ci aiuterà nelle operazioni successive di analisi. Faccio notare anche la flessibilità di Arcline nel gestire forme non regolari. Arcline è in grado di gestire strutture non regolari partendo da una forma regolare e poi intervenendo su quelle che possono essere modifiche puntuali in modo abbastanza snello. In Arcline, vedete, è molto semplice andare a modificare l'andamento, la struttura degli elementi con operazioni di modifica proprio libera sull'elemento stesso. Un'operazione fondamentale che serve per tutte le analisi successive è il rooming, cioè creare i locali, perché sui locali è dove si basano principalmente le proprietà principali di un calcolo termico per esempio, ma anche semplicemente in un computo l'estruzione delle finiture, ma tutto quello che può riguardare analisi generalmente prevede il vano. In Arcline c'è uno strumento potentissimo che è lo strumento roombook vano. Ci sono varie tecniche per creare i vani. Questa tecnica permetterebbe di andare vano per vano. Vedete, lui identifica i locali chiusi da muri e mi permette di inserire un vano. In questo caso faccio notare come viene preso tutta questa unità immobiliare, perché? Perché questi muri sono stati appositamente esclusi con questo flag dal calcolo del roombook. Chiaramente quando io vado a fare la creazione dei vani la faccio in funzione anche dello scopo. In questo caso sarebbe stato superfluo per lo scopo che per il calcolo delle performance termiche, quindi trovare un'APE, quindi la certificazione, andare a definire tutti i locali interni. Chiaro, se avessi dovuto fare i carichi termici magari avrei avuto necessità di locale per locale. Comunque, in generale c'è questa opzione che mi permette di semplificare il calcolo oppure di andare locale per locale. Esiste anche un'opzione che mi può velocizzare l'operazione invece che disegnarli uno a uno. Il programma mi permette di inserire tutti i locali in un colpo solo. Il programma va ora in cerca di ogni perimetro e vedete mi crea tutti i locali. Ci mette al centro poi il nome. Bene, i locali sono poi, vediamo qui nel gestore progetto, li troviamo all'interno della zonizzazione, sono tutti salvati nella lista dei locali. Artline prevede anche la gestione delle zone termiche o in realtà del raggruppamento in zone. Io potrei, i locali potrei raggrupparli in diversi gruppi di zone in funzione di quello che è lo scopo di cui ho. Ora, chiaramente l'intervento successivo riguarda la parte termotecnica, quindi adesso sto cercando di dare anche un po' lo slancio al collega e quindi sto ragionando sulla parte energia. Posso creare zone da questo gestore, le zone potrebbero corrispondere ad esempio ai falterni piuttosto che all'unità immobiliare. Appartamento 1 e all'interno di questa zona, andare a inserirci tutti i locali facenti parte dell'appartamento 1. Quindi tasto destro, associa, andiamo a evidenziare il locale, scusate era già selezionato, vedete era già selezionato il locale quindi andiamo a rimuoverlo. Andiamo a fare associa e andiamo a selezionarlo. In questo caso il locale è stato portato all'interno della zonizzazione. Questo è un concetto abbastanza importante che mi porta poi al completo, qui dove tutti i locali sono già stati generati, dove potremo visualizzare poi tutte le zone dell'edificio con questi comandi qui, associare delle colorazioni e quindi avere un modello codificato con gli elementi vano, con le zone, pronto per essere trasmesso ai successivi calcoli. Quindi quello che volevo trasmettere in questo brevissimo intervento era come il modello, la restituzione in 3D di un modello fatta su una piattaforma centralizzata potrà poi contribuire a più analisi differenti, quindi a più scopi. Da qui in poi in realtà lascio la parola al collega perché ti passerà effettivamente alla trasmissione di questo modello all'interno della piattaforma più indicata. Partiremo con la parte termica e poi ci sarà un collega che parlerà della parte contabilità per finire con la parte impiantistica. Giusto per mostrare un po' il funzionamento comunque clicchiamo il tasto analisi termica, clicchiamo su continua e in questo momento cosa sta succedendo? Si sta creando il modello matematico utile ai calcoli. Questa procedura richiede qualche minuto in funzione della complessità del modello stesso e restituirà quello che è poi un file pronto all'interno della piattaforma di lavoro specifica. ci sono qui all'interno dello strumento per il calcolo delle prestazioni energetiche, si chiama il modello BIM con il software per l'analisi. Io mi fermo qui e lascio la parola al collega Antonio di Inamirial. Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti. Sono Antonio More di Inamirial e in questo breve intervento di oggi vi mostrerò come completare il modello architettonico introducendo le informazioni necessarie per il calcolo prestazionale e quindi come scambiare i dati con Inamirial Termo che ci consentirà di analizzare le prestazioni dell'edificio e fare anche tutta una serie di valutazioni come ad esempio quelle finalizzate per l'ottenimento del superbonus 110 per. Bene, vediamo a questo punto il modello che già Marco aveva preparato. Qui erano state già inserite le zone, i vari locali. Possiamo ulteriormente migliorare il modello introducendo ad esempio le informazioni stratigrafiche. Il tab Inamirial BIM che trovate qui in alto contiene una serie di importanti funzioni per interfacciarci con il software di calcolo Inamirial. Ad esempio il pulsante proprietà strutture ci permette proprio di accedere alle proprietà della stratigrafia, quindi alle proprietà della struttura, chiedo scusa, e quindi da qui andare a richiamare l'archivio del software Termo all'interno del quale noi possiamo ad esempio inserire le nostre stratigrafie, costruirle a partire dall'archivio dei materiali e quindi assegnare le stratigrafie al modello. Un semplice doppio clic permette appunto di assegnare la stratigrafia all'oggetto che abbiamo selezionato all'interno del muro architettonico. Come vedete già in fase di inserimento il programma effettua delle verifiche, dei controlli. Ad esempio in questo caso gli spessori della stratigrafia che noi abbiamo richiamato non coincidono con le proprietà geometriche del muro inserito nel modello e quindi questo ci permette ad esempio di fare delle correzioni fin da subito. Ovviamente possiamo salvare le nostre modifiche e quindi completare il modello direttamente qui inserendo in ogni segmento anche creando dei set anche ad esempio facendo delle assegnazioni multiple e quindi completare il modello architettonico e poi trasferire i dati subito. Con il comando analisi termica come vi ha mostrato Marco poco fa possiamo ovviamente trasformare il modello all'interno e trasferire il modello all'interno del software termo. Ve lo mostro qui. Il tab BIM permette appunto di analizzare i singoli dati presenti all'interno del del modello di termo e quindi vedere in tempo reale sull'architettonico a cosa corrispondono i singoli oggetti che noi andiamo a selezionare. Come possiamo vedere quello che viene trasferito in interno sono le strutture e quindi vediamo ad esempio le pareti, i solai, vengono riconosciuti in automatico tutti i ponti termici presenti nel modello, le finestre e ovviamente viene creata anche la struttura geometrica. Disabilitiamo un attimo il collegamento. Viene creata la struttura geometrica ovvero tutti i vari appartamenti sono riorganizzati in zone, abbiamo i nostri locali con le proprietà geometriche e ogni locale ovviamente avrà la sua parete che lo separerà dall'esterno oppure lo separerà da un altro locale presente nello stesso. Quindi in questo modo noi abbiamo una visione sostanzialmente dettagliata dei parametri di calcolo e possiamo quindi completare il modello con l'inserimento delle informazioni. Ad esempio per andare un po' più nel dettaglio possiamo introdurre qual è la normativa di riferimento da usare per il calcolo, quali sono gli interventi che noi vogliamo effettuare, le modalità di calcolo, se semplificate o analitiche, ma possiamo ad esempio andare ad inserire all'interno delle centrali termiche il generatore che permette di riscaldare questo questo alloggio, ad esempio andiamo a dire qui una caldaia, un generatore a combustione. In maniera molto semplice possiamo indicare se il sistema è combinato oppure solo di riscaldamento acqua calda sanitaria, inseriamo il combustibile, inseriamo ad esempio l'ubicazione, il fluido termovettore del nostro combustibile, le potenze, in questo caso stiamo trattando un edificio molto grande, quindi magari abbiamo un impianto centralizzato. Come vedete ci sono spesso delle calcolatrici che permettono di completare i dati nel caso in cui magari non avessimo una scheda tecnica dettagliata per andarli a individuare nella realtà e poi possiamo ad esempio organizzare il modello inserendo ad esempio vari subalterni in modo che ogni zona termica, ogni appartamento sia effettivamente una unità immobili. Allora l'esempio di oggi è collegato al super bonus del 110, quindi noi vogliamo inserire un edificio clu di familiare, quindi vogliamo caratterizzarlo come tale e fare le nostre verifiche a livello di edificio, quindi non per unità immobiliare ma a livello di condominio. Quindi a questo punto inseriamo i vari subalterni, subalterno numero 2, e qui ad esempio spostiamo la zona termica dell'appartamento numero 2, quindi la inseriamo all'interno della nostra unità immobiliare, quindi subalterno numero 3, così via. E quindi in questo modo possiamo ovviamente modellare più accuratamente il nostro. Altro aspetto molto importante, come vedete qui nelle stratigrafie noi abbiamo sostanzialmente i dati che provengono dal modello architettonico, quindi lo spessore essenzialmente, come vengono utilizzate eccetera. Nel caso in cui noi avessimo già inserito nel modello la stratigrafia, come vi ho mostrato prima, allora questa ce la ritroveremmo direttamente in portata qua. Se inveceversa noi vogliamo completare qui la caratterizzazione delle stratigrafie, lo possiamo fare tranquillamente perché basta un tasto destro, il comando sostituisce elemento, ci permette ovviamente di andare ad assegnare la stratigrafia da archivio o da dove noi la vogliamo andare a prelevare e questa automaticamente viene aggiornata su tutti i punti in cui ovviamente è stata utilizzata nel modello architettonico. Vi faccio vedere ad esempio il progetto dopo aver fatto queste piccole modifiche ovviamente cerco di andare veloce visto il tempo e in questo modo abbiamo ovviamente inserito i vari subalterni, ognuno di essi ovviamente avrà la sua zona, abbiamo inserito la nostra centrale termica, quindi torniamo ad avere una caldaia o un impianto centralizzato e a questo punto abbiamo ovviamente inserito anche le stratigrafie per ogni. Vogliamo fare un calcolo per il 110, quindi la prima cosa da fare ovviamente è impostare l'edificio ante operam. Come sapete la normativa prevede che per accedere alle detrazioni del 110% bisogna innanzitutto ottenere da un insieme di interventi tra i nanti e tra i nati il doppio passaggio di classe, quindi da una classe energetica bisogna migliorare di due volte la classe finale e ovviamente poi bisogna fare delle verifiche puntuali, quindi tutto quello che viene ovviamente modificato pareti o caldaie se si fa una sostituzione deve rispettare determinati. Queste ovviamente sono tutte operazioni che compie il programma in automatico, ci basta semplicemente impostare i parametri. In caso specifico quindi supponiamo di voler fare una verifica del 110, quindi supponiamo appunto andiamo a impostare le detrazioni fiscali e qui nel nodo detrazioni fiscali abilitiamo il check 110, indichiamo che questo è l'edificio ante operam e ovviamente selezioniamo il caso intervento su edifici plurifamiliari. Lanciando il nostro calcolo ovviamente il programma va a determinare la classe energetica ovviamente di ogni singolo subalterno perché è stato inserito lo sappiamo e soprattutto la classe energetica dell'edificio in questo modo. Quindi da qui possiamo anche andare a stampare l'ape convenzionale. L'ape convenzionale che come sapete è un'ape che mette insieme le prestazioni di tutti i subalterni che costituiscono il condominio e quindi ovviamente ci dà una prestazione energetica complessa. Fatto questo adesso possiamo elaborare l'edificio post cioè possiamo introdurre le modifiche su questo stato di fatto per cercare di ottenere appunto le prestazioni. Da file nuovo abbiamo il comando edificio post intervento sappiamo il progetto chiaramente il programma ci può fare il salvataggio quindi nuovo edificio post. Qui abbiamo una schermata per l'inserimento guidato dei dati quindi supponiamo di fare un intervento su appunto edifici plurifamiliari. L'intervento trainante è l'isolamento delle superfici opache orizzontali ma vogliamo anche andare a sostituire ad esempio l'impianto centralizzato. Quindi in questo caso possiamo fare più interventi contemporaneamente. Confermiamo con ok e il programma va a creare un duplicato collegato ovviamente all'edificio di partenza all'interno del quale noi possiamo fare le nostre. Ad esempio qui in edificio se noi andiamo a vedere il nodo edificio del risultato vediamo che qui sono riportate tutte le informazioni i parametri della situazione anni. Il lavoro adesso consiste nel migliorare le prestazioni del nostro edificio quindi ad esempio andiamo nella parete esterna e introduciamo uno strato di isolante. Andiamo a cercare il polistirene ad esempio andiamo a mettere il nostro spessore ad esempio 10 cm quindi riorganizziamo ad esempio le nostre stratigrafie. Ovviamente tutto quello che non è da verificare quindi se ci sono altre strutture che noi non intendiamo toccare nel nostro intervento dobbiamo semplicemente escluderle dalle verifiche. In questo modo il programma sa quali sono le strutture da oggetto di intervento e quindi che devono essere sottoposte al controllo con il limite e le strutture che invece sono qui e non verranno toccare. Andiamo ad esempio ad inserire una nuova centrale termica, anzi inseriamo un generatore in sostituzione, mettiamo magari una pompa di calore in modo da avere magari una prestazione rinnovabile di interesse. Supponiamo di voler anche installare un impianto fotovoltaico quindi andiamo nelle centrali elettriche e andiamo a inserire le proprietà del nostro generatore fotovoltaico. Quindi come vedete è molto semplice l'inserimento dei dati quindi 60 metri quadri. Supponiamo di avere un silicio monocristallino e abbiamo già la nostra potenza di picco. Ci basta indicare l'inclinazione e l'orientamento e poi ovviamente lanciamo il calcolo, il programma ci fa dei controlli per capire se eventualmente ci sono dei dati non inseriti quindi li possiamo tranquillamente riportare nel punto esatto in cui vengono richiesti lanciando il calcolo ovviamente il programma effetto. E quindi riportiamo nel nodo verifiche di legge 10 tutto quello che deve essere controllato e verificato. Quindi come vedete non abbiamo in questo caso nessun passaggio di classe quindi dobbiamo ulteriormente migliorare il modello per ottenere le prestazioni volute. Vi mostro ecco velocemente il nostro modello in questione nel quale ho già preventivamente inserito correttamente l'isolamento delle pareti o migliorato ad esempio anche il basamento con un certo tipo di isolante o ottimizzato la caldaia con l'inserimento di una pompa di calore e lanciando il calcolo possiamo osservare il risultato. Bene nelle verifiche di detrazione come potete vedere il programma fa il confronto del passaggio di classe va a verificare che la superficie opaca di intervento rispetti il requisito del 25% e ovviamente va a controllare che tutte le strutture oggetto di intervento siano effettivamente superiori e qui osserviamo appunto le verifiche veramente allo stesso tempo possiamo fare una verifica di legge 10 perché nello stesso modello noi possiamo sia effettuare le verifiche per la detrazione che devono essere inviate all'enea fine lavori oppure entro il 30 per cento 60 per cento dello stato dei lavori ma allo stesso tempo dallo stesso modello possiamo effettuare la legge 10 che ci serve per dare il via ai lavori quindi per presentare effettivamente la pratica del al comune all'ufficio tecnico del comune per dare il via e quindi in questo modo con il con lo stesso modello possiamo ovviamente effettuare le verifiche in contemporanea sia per legge 10 sia di detrazione e quindi collegandoci anche al modello architettonico come vedete possiamo effettuare tutte le analisi bene l'intervento purtroppo è stato ovviamente limitato nel tempo visto visto che oggi pomeriggio stiamo cercando di dare una presentazione generale di tutte le funzionalità della nostra soluzione ovviamente siamo a disposizione per approfondire il per approfondire degli argomenti quindi per mostrare più in dettaglio quali sono le funzionalità dei vari programmi e adesso invece lascio la parola ai miei colleghi che vi mostreranno ulteriori funzionalità quali ad esempio il computo il computo metrico collegato al modello architettonico ma anche l'analisi e l'inserimento dei dati ripeto siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione quindi ci potete tranquillamente contattare ai numeri recapiti di namirial quindi 0 71 20 53 80 o potete scrivere anche all'assistenza tecnica quindi assistenza chiocciola edilizia namirial.it e vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon poveriggio salve a tutti sono alessandro limberti di namirial mi occupo della parte di contabilità lavori e oggi in questa breve dimostrazione vi illustrerò come da un modello architettonico prodotto con arcline xp è possibile realizzare un computo metrico che collega tutte le entità presenti appunto all'interno di questo modello passiamo operativamente a vedere come si effettua questa operazione allora vedete che qui abbiamo il modello architettonico che è stato realizzato dal collega in precedenza da marco e da qui noi all'interno del tab namirial.beam possiamo andare a cliccare sul comando computa modello cliccando su questo comando il software in pratica analizza e quindi cliccando poi sul comando continua analizza tutte quelle che sono le entità presenti all'interno del modello architettonico e attraverso lo strumento che si chiama regolo bim in pratica ci consentirà di avere la lista di tutte le entità e terminata questa operazione appunto verrà aperto questo strumento di interscambio che si chiama arcline xp namirial bim il software in questo momento ha terminato ora sta aprendo arcline xp namirial bim e quindi regolo bim che è appunto questo strumento di interscambio lo vedete qua sopra regolo bim vedete che dalla schermata che abbiamo aperto in questo momento noi abbiamo sulla parte sinistra tutto l'elenco delle varie entità le murature le porte le finestre i solai tetti le colonne e i vari ambienti che sono inclusi nel nostro modello architettuale ora non dobbiamo far altro che andare a creare quindi ad introdurre questi due concetti che sono quello di filtri e gru che vediamo qua sotto allora innanzitutto andiamo a capire che cosa sono questi due concetti diciamo che cosa sono filtri e gru allora il filtro è un una maniera automatizzata quindi andiamo a cliccare con il tasto adesso del mouse sulla sezione filtri e creiamo un nuovo filtro in pratica una modalità automatizzata che ci consente in base alla tipologia dell'elemento e alle eventuali caratteristiche di cui abbiamo bisogno di andare a raggruppare tutti quelli che sono tutte quelle che sono le entità presenti nel modello architettorico ad esempio la copertura quindi chiamerò questo filtro coperture allora chiaramente nel modello architettorico qui abbiamo una sola copertura perché abbiamo visto nel nostro modello di arcline che la copertura chiaramente è unica e riguarda tutto l'edificio quindi andando a selezionare semplicemente tutti gli elementi di tipologia tetto e cliccando su ok vedete che nel filtro copertura viene immediatamente selezionata quella che è la copertura praticabile cioè quella che noi abbiamo e che è evidenziata in questo momento nel disegno questo quindi è un primo filtro un altro filtro che noi potremmo eventualmente realizzare è quello dei serramenti quindi andiamo su nuovo filtro andiamo a selezionare le finestre in questo caso nel tipo entità andiamo ad indicare le finestre e come caratteristica aggiuntiva magari andiamo ad introdurre il concetto di proprietà quindi per queste finestre noi possiamo eventualmente associare tutte le finestre che appartengono ad esempio al piano terra quindi clicchiamo sul comando ok e il software vedete ci elenca tutte quelle che sono le finestre presenti al pian terreno andiamo invece alla sezione dei gruppi i gruppi che possono essere creati vanno creati però selezionando quelle che sono le entità che ci interessano quindi ad esempio se noi abbiamo la necessità di andare a selezionare solo gli spazi quindi quelli relativi a diciamo le zone oggetto di intervento quindi gli appartamenti nel nostro caso possiamo tornando sempre su regolo BIM andare a selezionare l'elenco di questi spazi non so se avete notato che selezionando il singolo elemento automaticamente c'è una correlazione con quanto indicato all'interno di ArcLine perché perché appunto selezionando ad esempio l'appartamento 8 in questo caso il software ci va appunto a evidenziare qual è nel modello architettonico il nostro appartamento 8 questa è un'operazione che noi possiamo anche eventualmente disabilitare quindi se non vogliamo che ogni qualvolta si vada a selezionare un'entità questa venga poi rappresentata nel nostro modello architettonico possiamo accedere alla sezione BIM e cliccare su disabilità collegamento vedete che adesso io vado a selezionare le singole entità rimango comunque sulla schermata di regolo BIM ora vado appunto con il tasto shift a selezionare effettuare una multiselezione di quelli che sono gli appartamenti che ci interessano e a questo punto posso cliccando con il tasto del mouse andare a creare un nuovo gruppo che chiamerò gruppo appartamenti gruppo appartamenti clicco su ok e vedete che nell'elenco dei gruppi è apparso questo gruppo che si chiama appartamenti dove sono selezionati solo appunto i locali quindi gli appartamenti che avevo selezionato in precedente quindi abbiamo visto come si creano filtri e come si creano i vari gruppi adesso andiamo a vedere proprio il passaggio che è il collegamento tra questi e questi diciamo questi raggruppamenti relativi all'entità e quelli che sono i prezzi quindi il computo metrico effettivo allora questo lo facciamo creando una regola e introduciamo il concetto di regole che vedete anche qua sotto quindi clicchiamo con il tasto del mouse sul filtro che ci interessa e quindi sul comando nuova regola questo comando ad esempio per la copertura ci consente di andare a specificare il nome della regola che potremmo definire come non so posa isolamento copertura andare a specificare all'interno della categoria lavori a misura magari una categoria specifica che chiameremo isolamento e quindi la voce di elenco prezzi che ci interessa quindi andiamo sulla sezione apri elenco prezzi ed andiamo ad aprire l'elenco prezzi di riferimento per la realizzazione del nostro computo metrico in questo caso vado ad aprire l'elenco prezzi per la timo a marchi 2020 ora terminata l'apertura del nostro elenco prezzi possiamo direttamente qua accedere alla struttura del nostro elenco prezzi e andiamo a prendere all'interno di una categoria specifica per esempio quello che riguarda il materiale isolante relativo alla copertura quindi andiamo all'interno della categoria pannelli lana di roccia e andiamo a prendere questa voce di elenco prezzi che è relativa appunto ai pannelli e lana di roccia per le coperture la selezioniamo e andiamo ad importare cliccando sul comando importa vedete che qua automaticamente viene riportata oltre alla descrizione anche il prezzo al metro quadro e l'unità di misura appunto metro quadro a questo punto colleghiamo le misure relative all'entità appunto della copertura alla nostra voce di elenco prezzi e lo facciamo selezionando ad esempio all'interno della riga A quella che è l'area in mappatura della nostra copertura quindi saranno 961 metri quadri con il prezzo 5,75 euro avremo questo importo per la posa di questo materiale cliccando sul comando ok vedete che nel nostro computo metrico qua a destra viene riportata automaticamente la voce che abbiamo selezionato con l'importo totale in questo momento e la quantità qua sotto relativa appunto alla copertura andiamo adesso a quella che è ad esempio la sostituzione di tutti i serramenti quindi andiamo a creare una nuova regola anche per questa che chiameremo appunto sostituzione serramenti che applicheremo questa volta ad una nuova categoria che chiameremo serramenti cliccando sul comando apri elenco prezzi andiamo questa volta a selezionare un'altra voce relativa appunto a quella che è la parte dei serramenti e quindi andiamo a prendere all'interno delle nostre voci di elenco prezzi la voce specifica relativa ai nostri serramenti la selezioniamo e l'andiamo ad importare all'interno della nostra regola a questo punto qui è molto più semplice perché per ogni serramento noi dobbiamo applicare la quota relativa alla sostituzione a questo nuovo serramento e quindi andiamo semplicemente ad introdurre il valore 1 quindi per ogni serramento avremo questo prezzo quindi quantitativo 4 perché i serramenti appunto come abbiamo visto sono 4 prezzo singolo e importo totale andiamo a cliccare sul comando ok e troviamo che il nostro computo vedete aumenta di importo perché appunto abbiamo aggiunto anche la sostituzione dei nostri serramenti passiamo all'ultimo all'ultima operazione che riguarda questa volta il gruppo quindi anche qui per questo gruppo noi possiamo andare a creare una nuova regola ad esempio potremmo creare una nuova regola che è ad esempio la tinteggiatura quindi la tinteggiatura interna dove andremo a computare quelle che sono le misure relative alle pareti e al solaio superiore quindi andremo prima a creare una nuova categoria che chiameremo finiture all'interno di questa categoria magari possiamo creare un'ulteriore suddivisione che sarà quella delle tinteggiature e quindi per questa regola andare a prendere all'interno del nostro elenco prezzi quelle che sono appunto la parte relativa alle tinteggiature quindi andiamo ad esempio a prendere oppure la parte relativa magari alla posa dell'intonico quindi andiamo magari a ricercare una voce relativa alle tinteggiature quindi su intonici andiamo a prendere all'interno della nostra magari l'intonico o piuttosto proprio la parte relativa alle tinteggiature quindi potremmo anche prendere il tinteggio su pareti prendendo per superfici eccole qua andiamo a prendere questa voce la importiamo importiamo la tinteggiatura quindi la voce relativa con il proprio prezzo e andiamo a selezionare quelli che sono i quantitativi relativi a l'area netta delle murature più quella che è la superficie relativa a quella che è la parte superiore quindi andiamo a prendere ad esempio la parte relativa al soffitto in questo modo noi abbiamo la somma delle superfici di tutte le pareti più le superfici del solaio superiore del nostro dei nostri tutti i nostri ambienti e andiamo a cliccare sul comando ok questo verrà aggiunto automaticamente alla sezione finiture come vedete e il nostro computo nel frattempo diciamo viene compilato aggiungendo anche questo informe in ultimo magari abbiamo sempre per gli stessi appartamenti la posa della pavimentazione quindi andiamo a cliccare nuovamente su nuova regola la chiameremo pavimentazione pavimentazione all'interno della sezione finiture creiamo un'ulteriore categoria che chiameremo pavimenti e per questo invece per tutti i locali tanto andiamo a selezionare quelle che sono quella che è la voce di elenco prezzi relativa alla pavimentazione che ci interessa quindi andiamo a scorrere il nostro elenco prezzi andiamo a prendere le piastrelle per pavimenti e andiamo a prendere magari delle queste tipologie di piastrella effetto legno la importiamo all'interno della nostra regola e per tutti i locali andiamo a prendere quella che è l'area netta del pavimento e quindi abbiamo vedete 525 metri quadrati per 24,24 euro al metro quadro e l'importo complessivo quindi andiamo a cliccare sul comando ok e in ultimo abbiamo per la pavimentazione quella che è la nostra voce qui vedete che abbiamo oltre a tutti i quantitativi anche l'importo parziale della pavimentazione l'importo parziale della categoria finiture e alla fine quello che è diciamo l'importo dei lavori a misura dei nostri lavori adesso possiamo andare a vedere come andare eventualmente a personalizzare il nostro computo metrico semplicemente accedendo al software regolo quindi clicchiamo sul comando BIM sulla sezione BIM e clicchiamo su apri documento in regola il software ci chiede di andare a salvare quello che è il nostro documento noi lo salviamo clicchiamo su salva e a questo punto ci viene aperto il nostro documento in regola il software sta elaborando quello che è il documento in regola eccolo qua dove abbiamo le stesse identiche categorie che avevamo creato in precedenza con tutte le varie descrizioni delle voci i quantitativi totali e l'importo complessivo ora noi qui possiamo andare tranquillamente a personalizzare tutto quanto quello che abbiamo inserito per esempio abbiamo inserito la tinteggiatura ma magari non abbiamo inserito l'intonaco quindi le misure tipicamente della tinteggiatura sono le medesime dell'intonaco quindi noi potremmo eventualmente attingendo da un elenco prezzi da un altro elenco prezzi o magari dallo stesso elenco prezzi che abbiamo utilizzato in precedenza andare a prelevare quella che è la voce relativa all'intonaco ed aggiungerla quindi personalizzare ulteriormente il nostro computometrico che avevamo ricavato dal modello architettuale e questo lo faccio in maniera molto semplice quindi vado ad aprire l'elenco prezzi il medesimo che avevo aperto prima vado a prendere nella sezione intonaci la voce relativa all'intonaco quindi prendo l'intonaco copio questa voce e torno nel mio computometrico ora all'interno del computo non devo fare altro che per la sezione tinteggiatura andare ad incollare quindi semplicemente utilizzando il copio e incolla andare ad incollare questa nuova voce che attualmente però non ha nessun tipo di misurazione abbiamo detto però che le misure dell'intonaco tipicamente sono le stesse della tinteggiatura quindi che cosa facciamo? senza dover andare a riscrivere tutte quante le misurazioni che noi abbiamo attribuito alla voce relativa alla tinteggiatura non facciamo altro che dire al software collegami la voce dell'intonaco a quella che è la tinteggiatura quindi all'interno della colonna A sempre clicco sul comando riferimento voce questo mi consente di andare a selezionare la voce della tinteggiatura e di applicare il medesimo quantitativo in metri quadri alla voce dell'intonaco quindi clicco sul comando ok e questo riferimento mi dà il medesimo quantitativo vedete che le due voci hanno lo stesso quantitativo però con un importo diverso perché chiaramente è relativo alla realizzazione del nostro intorno quindi abbiamo visto in pochi semplici passaggi come ottenere dal modello architettonico quello che è il nostro computo adesso provvediamo ad effettuare magari la stampa quindi andiamo a cliccare sul stampa computo possiamo andare a selezionare magari le varie opzioni per stampare una o l'altra categoria oppure stampare l'intero computo indicare la data da porre in copertina e a questo punto vedete che noi abbiamo il nostro computo metrico che con la copertina e poi le varie voci di elenco prezzi con i relativi quantitativi e per questi quantitativi quello che è l'importo complessivo quindi alla fine noi abbiamo l'importo del nostro computo metrico possiamo visualizzare in diversi modi per vedere appunto poi nella pagina, nell'ultima pagina finale quello che è l'importo complessivo del nostro computo ovviamente questo documento può essere come vedete esportato in diversi formati può essere stampato in maniera cartacea e da questo noi possiamo andare a derivare ulteriori indicazioni come ad esempio possiamo andare a creare il cronoprogramma dei lavori quindi dal nostro computo accedendo prima alla sezione dati generali andando nella configurazione delle procedure anzi nella contabilità lavori e andando a indicare qual è il computo di progetto noi possiamo andare a stabilire quella che è il computo di progetto per la nostra contabilità tra l'altro come avete visto io ho cliccato questi comandi questi mi consentono di bloccare i calcoli e in sostanza di calcolare automaticamente sia quella che è la quota della sicurezza relativa all'importo di progetto che noi abbiamo nel nostro computo sia quello che è il costo del personale in maniera automatizzata perché all'interno dell'elenco prezzi ci sono anche le informazioni relative alle percentuali di sicurezza e manodopera per ciascuna delle voci che noi abbiamo utilizzato delle voci dell'elenco prezzi che abbiamo utilizzato andiamo poi ad indicare magari quella che è la data dei lavori la data di inizio dei lavori e da qui possiamo andare a realizzare il nostro cronoprogramma quindi possiamo accedere alla sezione procedure cronoprogramma dei lavori e all'interno di questa sezione possiamo dire al software di compilare il nostro cronoprogramma in base alle lavorazioni che abbiamo effettuato quindi cliccando sul comando compilazione automatica vedete che il software ci propone qual è il nostro computo BIM quello che abbiamo appena realizzato e cliccando su ok vedete che viene composto automaticamente il diagramma di Gantt con le varie lavorazioni che possono poi essere tempificate in base a quella che è l'andamento previsto del nostro computometrico quindi delle lavorazioni previste all'interno del nostro computo e anche questo è ovviamente stampabile o esportabile addirittura in DVG per poter poi eventualmente creare un documento relativo appunto al nostro computometrico e vedete che qui abbiamo già il nostro cronoprogramma con le varie date come lo abbiamo indicato appunto creando il nostro diagramma di Gantt bene io direi che abbiamo visto quella che è una diciamo una visione di insieme del nostro software delle potenzialità diciamo di collegamento tra i due software e chiaramente questo è uno strumento piuttosto valido per la realizzazione del computometrico, perché capite bene che ci consente di non dover imputare tutte le misure, ma di derivare tutto direttamente dal modello architettonico e quindi con la nostra dimostrazione, la nostra presentazione io direi che abbiamo terminato ora la parola va al collega per quanto riguarda la parte impiantistica, io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, arrivederci Grazie Alessandro per l'ottima presentazione ora invece parliamo di come progettare gli impianti sprinkler e idranti attraverso la collaborazione e l'integrazione instaurata fra il modulo cpu in speed map di ramidial e arcline andiamo quindi sul nostro desktop ovviamente per questioni legate al fatto che stiamo lavorando sullo stesso monitor dovremo per forza di cose passare da un software all'altro ma chiaramente l'utilizzo dei due software attraverso due monitor è certamente fortemente così come vedete abbiamo riaperto il progetto nella planimetria che è nell'edificio che è stato oggetto degli altri interventi dei miei colleghi e come vedete abbiamo anche aperto il software cpu in speedy per la progettazione degli impianti una delle cose fondamentali che si può fare ovviamente è quella di andare a eseguire una classificazione normativa di tutti i locali per esempio facendone una velocemente che ci servirà dopo trattandosi di un edificio che ha sia edifici civili sia una parte di autorimessa e attivando la normativa EN 12845 del 2020 in questo caso andiamo a definire appunto la nostra attività autorimessa andiamo a dare l'altezza del soffitto avanti avanti ovviamente diciamo non essendo oggetto questa del del webinar di oggi vado un po' velocemente avanti ok otteniamo una serie di dati che ovviamente possiamo andare a manipolare e interpretare correttamente ecco una volta fatto questo ok siamo in grado di andare a definire i nostri livelli di disegno quindi possiamo andare per esempio a definire tre livelli o in questo caso erano quattro ma diciamo che per ora quello che ci serve li possiamo mettere così vengono associati a ciascuno a una quota quindi in questo caso l'autorimessa per esempio è quota meno tre ok questa possiamo chiamarla autorimessa possiamo andare a mettere zero al secondo livello eccetera eccetera per gli altri livelli questo lo chiamiamo per esempio piano terra e questo piano 1 e piano 2 una delle cose importanti che dà vita alla prima forma di interazione con Arcline che ovviamente avendo importato eventualmente un file a FC o ovviamente un file generato direttamente da Arcline ha direttamente una serie di planimetrie che potete vedere nella finestra 2D possiamo sottare queste planimetrie per andare a utilizzarle come riferimento per la nostra rete infatti se noi andiamo qui e gli vado a dire inserisci piantina vedete che potrei o importare direttamente dei dvg appositamente creati oppure andargli a dire collegati con il modulo Arcline e vai a prendere tutte le tue planimetrie ecco che sta caricando e da questo momento sono totalmente a nostra disposizione quindi scegliamo per esempio per l'autorimessa la nostra planimetria dell'autorimessa e ovviamente allo stesso modo operiamo per gli altri plani avendo a questo punto già l'elenco delle planimetrie a cui vogliamo fare riferimento questa è la prima forma di interazione la seconda forma di interazione avviene attraverso il disegno come vedete io posso andare ovviamente a disegnare un tubo per esempio a quota meno 0.40 lo disegno qui proprio perché così lo possiamo vedere molto più facilmente e in qualunque momento andare ad attivare la comunicazione tra Arcline e il software CPU Speedy come vedete notando il nostro tetonico spostandolo possiamo vedere che abbiamo immediatamente creato la nostra tubazione non solo guardate adesso andiamo a mettere letteralmente una genzione andiamo a dire che vogliamo questo tubo per esempio lungo 10 metri diciamo che c'è una discesa a quota meno 1.5 e riattacchiamo un idrante vediamo anche una direzione avendo fatto ESC immediatamente il software si è aggiornato ed ecco che ha creato immediatamente l'idrante secondo le condizioni che gli abbiamo dato noi quello che possiamo fare in realtà è molto più ampio per esempio posso andargli a dire che per esempio questo tubo come vedete ha delle proprietà e nemmeno a farla apposta va proprio a aprire la tabella proprietà del del software e a questo punto noi possiamo andargli a dire che questo tubo è un DN 40 e automaticamente tutti i pezzi connessi vengono automaticamente ricollegati magari per vederlo meglio mettiamoci in solo map così vediamo più evidenziate tutte le tubazioni e soprattutto vedete abbiamo tutti i pezzi correttamente sistemati non solo possiamo operare non solo delle modifiche nella proprietà quindi andare a sistemare tutti i diametri o tutto quello che ci interessa operazioni ovviamente che posso fare anche direttamente da cpwin speedy ma per esempio posso operare anche delle modifiche al disegno che vengono recepite immediatamente da cpwin speedy per esempio seleziono questo tubo e gli dico che lo voglio in realtà spostare e lo voglio essere messo qui a questo punto cosa mi aspetterei che ovviamente il software riadeguasse tutta la situazione alle condizioni corrette perché chiaramente se sposto il tubo mi devo portare l'idrante mi devo ovviamente spostare anche tutti i pezzi connessi per esempio allo stesso modo possiamo andare a prendere il nostro terminale e andare a dire modifica elevazione e a questo punto andare a dire per esempio che da qui lo voglio sollevato in questo modo automaticamente come vedete l'interazione non è solo da speedy ad arcline ma è bionivoca e quindi anche da arcline a speedy in cui potete vedere tutti i risultati delle operazioni che abbiamo fatto con la z che è salita da meno 1,5 a meno 0,978 ovviamente attenzione c'è una cosa importante da dire che riguarda il fatto che perché abbiamo fatto questa scelta comunque di favorire in ottica BIM il disegno 2D il motivo è molto semplice perché fino a quando si tratta di parlare di pochi tubi pochi terminali allora chiaramente il disegno punto punto chiamiamolo così linea per linea può certamente essere assolutamente un elemento di favore andare a disegnare direttamente in in 3D fermo restando che se anche disegno in 2D assolutamente non perdo tempo anzi in 2D ho degli strumenti più veloci più immediati per poter disegnare e col 3D andrò a verificare quello che ho disegnato ma se ho migliaia di entità come può essere un impianto sprinkler capite bene che andare a disegnare una rete in un ambiente 3D diretto con tutti quei tubi e tutti quegli sprinkler e tutto quello che può che è connesso ad una rete di questo tipo capite bene che diventa estremamente problematico e diventa una grande perita di tempo per il progettista viceversa se si può sfruttare tutti gli strumenti che hanno fatto poi quella forza per cui il software CPU Speed è stato sempre il leader in questo settore per quanto riguarda la progettazione degli impianti sprinkler idranti capite bene che grazie all'ausilio e alla collaborazione con Arcline chiaramente abbiamo uno strumento potentissimo per esempio se io voglio creare una griglia e voglio andare a scegliere per esempio l'autorimessa vado a dirgli se la voglio con falda senza falda in un senso nell'altro senso vado a dargli le mie impostazioni di disegno vado ovviamente a dare dei valori assolutamente diciamo inventati e andiamo anche a creare una complicazione nella nostra griglia quindi con delle candele delle sopraelevazioni delle nostre diramazioni capite bene che l'andare a disegnare una situazione di questo tipo in pochi secondi vedete che con qualunque cad già di per sé perdereste un sacco di tempo i figuratevi col 3d e automaticamente andare su Arcline e vedere quello che noi abbiamo creato vedete immediatamente e capirete che è estremamente importante avere una comunicazione di questo tipo piuttosto che dover andare a disegnare ovviamente i diametri che voi vedete in questo momento sono quelli di default non sono certo quelli che poi si utilizzeranno nel progetto o a seguito del calcolo o a seguito di nostra impostazione per esempio se io voglio avere tutti i tubi inventiamo di tipo di N25 ci basterà per esempio tutte le nostre candele di N20 io penso di andare qui gli dico proprietà multipla ai tratti falli diventare tutti per esempio di N32 fissa accetta e poi gli vado a dire vai nella tabella tratti prendimi tutti i tubi che hanno lunghezza 040 che sono le nostre candele e falle diventare invece di N20 ci siamo i diametri accetta chiudi premiamo ESC per attivare la nostra comunicazione e vedete che immediatamente ARKLINE reagisce e grazie alla comunicazione proveniente da Spidi va a riadeguare tutta la rete secondo le indicazioni che gli abbiamo dato ovviamente vi stiamo dicendo in questo momento di andare a cambiare diverse centinaia di elementi in una volta sola e lo fa direi in maniera molto veloce vedete con le riduzioni adeguate con le T dove devono essere i sprinkler e tutto quello che è connesso alla nostra apriamo quindi un progetto già fatto o comunque un progetto fatto già per una parte quindi andiamo a prendere per esempio questo che è collegato proprio all'edificio che stiamo analizzando ecco adesso adesso se noi andiamo ovviamente a riattivare la nostra comunicazione con ArcLine andiamo a vedere immediatamente che in pratica abbiamo di nuovo la nostra rete completa e tramite questa possiamo andare a attivare una serie di visualizzazioni grazie alle funzionalità messe nel menu la Mirial DIM nella quale possiamo vedere per esempio l'impianto vedete con tutti i dettagli diciamo della nostra rete possiamo andargli a dire di avere il map come primario quindi vedere in trasparenza il nostro edificio e la nostra rete possiamo andare a vedere sull'architettonico l'architettonico come primario e ovviamente e infine avere una individuazione diciamo colorata effettiva come nelle realtà del nostro architettonico con la nostra con la nostra rete per esempio possiamo attivare il nostro tour e andare all'interno il comando fly per esempio nella quale possiamo andare a verificare per esempio alcune parti della nostra rete quindi noi ci muoviamo ok e per esempio ci accorgiamo che una cosa che potremmo fare è che ci accorgiamo che per esempio questo terminale non è al posto esatto dove lo volevamo mettere quindi automaticamente praticamente possiamo andargli a dire di prendere spostare e andargli a dire guarda che io il mio tubo lo voglio a fila di questa linea automaticamente il software ovviamente va a riadeguare il tutto ok e come vedete ottengo ovviamente lo stesso spostamento otterrò lo stesso spostamento nel punto diciamo di riferimento un'altra cosa che si può fare per esempio è spesso è un problema che avviene quando mi trovo con una rete grossa e quindi magari faccio fatica a orientarmi esattamente nel disegno attivando lo zoom prima di mostrare le proprietà in qualunque momento io per esempio posso andargli a dire guardate dico io voglio vedere questo tubo vedi le proprietà e se mi trasferisco immediatamente su map ho immediatamente lo zoom sull'elemento a cui sto facendo riferimento guardiamo rifacciamo di nuovo tanto per farvi capire un pochettino come funziona lo strumento io vado direttamente qui per esempio e gli vado a dire questo tubo proprietà e come vedete anche il programma zoom sul tubo a cui stiamo facendo riferimento un utile strumento quindi per potersi orientare molto più facilmente all'interno di reti quando soprattutto queste sono estremamente grandi e quindi con parecchie entità da andare a individuare all'interno del vostro edificio abbiamo detto per esempio che io voglio avere un impianto sprint bisogna fare una premessa se apriamo immediatamente la vista 2d e la rendiamo primaria all'interno di arcline con arcline è possibile nel menu architettura andare a identificare tutti i vani presenti quindi andare a descrivere come vedete è stato fatto qua i vani all'interno del vostro edificio questo che cosa significa? che ogni vano ha delle proprietà e ogni vano fra le proprietà che vengono definite ha sia la polilinea fondamentalmente i vertici che definiscono appunto la superficie del vostro vano sia l'altezza del vano stesso e allora abbiamo pensato perché non sottare questa proprietà se infatti io vado adesso nei livelli e aggiungo per esempio un livello a cui associo la planimetria per esempio autorimessa e un altro livello a cui associo la planimetria per esempio piano terra eccetera eccetera e questa per esempio gli andiamo a dire di mettere autorimessa sprinkler tanto per dare un nome e gli vado a dire che questa è a quota sempre meno 3 la stessa quota diciamo del piano autorimessa ma la stiamo creando un altro per andare a identificare fondamentalmente un altro livello nel quale in questo modo possiamo andare a disegnare una rete completamente separata dalla rete idrante quindi avere anche dei disegni assolutamente validi e separati e non confusionari nel secondo livello quindi andiamo a scrivere piano terra spk e gli andiamo a dire la quota zero andiamo per esempio sul quota che ho rimessa andiamo a zoomare in modo tale da andare a identificare facilmente la planimetria e guardate adesso questo strumento che è stato che è assolutamente molto utile quando io ho tutta una serie di divani e per esempio voglio riempirli in maniera uniforme di sprinkler essendo sicuri di averli centrati allora andiamo nel menu disegno gli dico oggetti sprinkler gli dico disposizione sprinkler e attivo la funzionalità room ora voi qui l'avete già diciamo fondamentalmente inserita ma io posso andargli a dire per esempio importa ok e che cosa fa adesso il programma il programma va a collegarsi nuovamente con arcline e va a definire a individuare tutti i vani presenti ecco quindi praticamente che lui si è caricato tutti i vani per il piano autorimessa si è caricato tutti i vani per il piano terra si è caricato tutti i vani per il piano primo ora gli andiamo a dire per esempio che non voglio andare a inserire sprinkler nel piano 1 quindi iniziamo a togliere semplicemente il check e gli vado a dire di attivare cambiare i valori a tutte le righe del gruppo così diciamo abbiamo tolto il piano 1 per l'autorimessa chiaramente devo andare a fare la classificazione della nostra autorimessa e quindi la vado a inserire eccetera eccetera in questo caso ovviamente non andrò a inserirlo nel piano terra essendo un edificio civile a questo punto che cosa andiamo a fare andiamo semplicemente a dirgli per esempio che voglio andare a mettere in tutti i vani e voglio per esempio che il mio sprinkler trasversia a 15 cm dall'altezza del soffitto che è indicata appunto all'interno dei vani e voglio destinare questi vani e gli sprinkler che saranno inseriti ovviamente al piano autorimessa spk una volta fatto questo non devo far altro che dirgli se voglio avere i tratti per esempio se gli tratti li voglio avere in un modo o in un altro quindi trasversali longitudinali eccetera eccetera se voglio disporli secondo la distanza per esempio tra gli sprinkler nella quale io non vado a far altro che vai a dirgli guarda io voglio 3.6 in un senso sto inventando ovviamente e 3.3 nell'altro senso ora una volta fatto questo torniamo qui vado semplicemente a dire di attivare l'opzione room e gli vado a dire conferma ora a questo punto gli diciamo di continuare con l'operazione e vedete che in automatico il software ha inserito immediatamente tutti gli sprinkler che gli abbiamo detto di inserire nei vari vani che sono stati individuati al programma nelle corsie e nei singoli box non ci basterà far altro che andare per esempio a prendere a verificare l'altezza che è meno 0400 correttamente ok e vado a dirgli prendi il tubo e a quota per esempio meno 0400 vai a inserire la nostra tubazione principale il nostro main ok e per ognuno andremo a creare il nostro aggancio al tubo principale vedete molto velocemente in questo modo abbiamo risolto uno dei più grossi problemi che si ha in ambito di progettazione sprinkler cioè quella di andare a centrare ogni singolo diciamo locale presente all'interno della vostra attività per esempio se ora io vado a vedere quello che abbiamo effettivamente disegnato ci accorgiamo già subito del nostro impianto vedete anche nel 2D con quale dettaglio e particolarità vengono rappresentate tutte le varie parti andiamo a vedere per esempio il nostro tridimensionale facciamoci un breve giro con il solito nostro fly e vediamo che ovviamente abbiamo disegnato la nostra rete a meno ovviamente sempre dei diametri che rimangono quelli di default e quindi ovviamente cambieranno nel momento stesso in cui noi andremo ovviamente a modificarli vedete qui dove invece abbiamo operato la nostra aggiunzione con i nostri diciamo con le nostre diramazioni ok perfetto se vogliamo possiamo anche per esempio andare a modificare per tanto per renderci conto i nostri diametri di questa parte vi diciamo molto velocemente proprietà multiple tratto di voglio tutti dn 25 ok e immediatamente andremo a verificare questa situazione vedete nella quale praticamente i nostri tubi sono stati possiamo anche andare per esempio nei nostri garage i nostri box e verificare analogamente il risultato quindi diciamo un'interazione molto importante molto forte che però permette all'utente certamente di andare ad operare in termini di progettazione dell'impianto in maniera decisamente più veloce apriamo per esempio a questo punto il progetto definitivo lo andiamo a prendere esattamente qui ed ecco che se riattiviamo la comunicazione con Alkaline ok e premendo ovviamente ESC possiamo andare a vedere quello che c'è sul software quindi vedete qui è la nostra autorimessa questa è la parte sprinkler eccola qua possiamo ingrandirla meglio poter capire meglio come viene anche diciamo generato un DD assolutamente efficace e molto diciamo utile dal punto di vista del disegno tecnico tutti i diametri perfettamente dimensionati andiamo a vedere il il 3D qui siamo all'interno del garage ci avvariamo al solito del fly così ci muoviamo un po' più liberamente e qui vedete magari mettendoci in modalità visualizza perfetta ecco che così avete un'idea perfetta dell'intera rete a questo punto che cosa possiamo fare chiaramente per ogni entità quindi per ogni entità possiamo ovviamente come abbiamo già detto modificare tutto quello che vogliamo abbiamo tutti i parametri BIM necessari a definire correttamente l'impianto per e quindi dando tutte le informazioni che servono all'impianto stesso e chi poi dovrà andare eventualmente a analizzare l'intero impianto potremo ovviamente salvare in IFC e potremo ovviamente andare a creare tutte le sezioni tecniche necessarie grazie a tutti gli strumenti che poi andare a sfruttare tutti gli strumenti che sono presenti all'interno di Arcline tanto per capirci se io vado ovviamente in documentazione sezione definisci una sezione andiamo a dare ovviamente nella nostra sezione per esempio la profondità della nostra sezione per esempio la vogliamo di 3 metri e a questo punto andiamo a definire la linea nostra linea di sezione stessa per esempio andiamo a dire che vogliamo la sezione da questo punto a questo punto in questa direzione ed ecco le nostre sezioni tecniche assolutamente gradevoli utili dal punto di vista ovviamente proprio dell'aspetto progettuale e quindi possiamo creare tutti gli elaborati grafici che ci servono se poi vogliamo anche avere il piacere di presentare al meglio i nostri progetti forti sia della parte diciamo architettonica che ovviamente della parte impiantistica potremo andare ovviamente in rendering e attivare la KleinXP live io l'ho già messo sotto per ovvi motivi di tempo e vedete che questo è certamente solamente il risultato aggiungendo delle persone aggiungendo delle auto aggiungendo ovviamente degli effetti ad hoc che sono consentiti appunto dal live tramite la propria libreria quindi se adesso ci facciamo un velocissimo tour per chiudere il progetto potete vedere anche come il tutto possa essere quindi presentato assolutamente in maniera estremamente professionale ma anche allo stesso tempo molto attraente ed efficace la mia dimostrazione quindi termina qui avete visto come diciamo si è riusciti a unire la praticità di un disegno 2D a la possibilità invece di ottenere dei 3D assolutamente efficaci assolutamente validi in termini di progettazione impiantistica BIM e quindi ovviamente potendo sfruttare la forza del programma CP1 Speedy con le grandi peculiarità in termini architettonici e di map del software Arcline si sia riusciti a tenere un prodotto estremamente competitivo ma soprattutto estremamente pratico oserei dire molto probabilmente in questo momento il più pratico presente sul mercato vi ringrazio ancora una volta e passo la parola ai miei colleghi